Musica Apriamo con la pagina della cronaca e ci trasferiamo nel regino incendio in abitazione a San Giorgio Morgeto Un'anziana muore carbonizzata Un'anziana è deceduta a seguito di un incendio nella propria abitazione La donna accortasi delle fiamme avrebbe tentato in vano di uscire Rimanendo però semi carbonizzata in quanto intrappolata L'incendio e le che cause sono in corso di accertamento Si è verificato questa mattina nel comune di San Giorgio Morgeto fuori dal centro abitato Difficoltoso anche l'intervento dei vigi del fuoco di Polistena Giunti sul posto a causa delle strade molto strette e delle abitazioni molto attaccate tra loro L'intervento alla squadra è valso di evitare che si propagassero le fiamme agli appartamenti vicini I vigi del fuoco hanno lavorato per tre ore al fine di domare l'incendio Di estrarre il cadavere dell'anziana signora che secondo i primi accertamenti era già deceduta Prima del loro arrivo Minaccia di gettarsi nel vuoto a Reggio Calabria e viene salvato dagli agenti Un giovane è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria Al termine di una lite con la famiglia il giovane aveva minacciato di gettarsi da un balcone della sua casa Nel quartiere Saracinello periferia sud di Reggio Sul posto allertate e non telefonate sono giunte gli agenti e la Polizia Che prima hanno dialogato con il giovane per farlo desistere dal suo proposto Infine con una precisazione sono riuscite a bloccare il giovane e a metterlo in sicurezza Sul posto è rientravenuta anche un'autoambulanza del 118 Sgominata rete romana della droga a capo il nipote del boss degli Aquino Operazione antidroga a Roma condotta alle prime luci dell'alba dai carabinieri del gruppo di Frascati Che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere Emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia Nei confronti di 13 soggetti di cui una donna Appartenenti ad un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti Le indagini sono state condotte dal dicembre 2015 al novembre 2018 Dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frascati Ed è emerso che il gruppo nel quartiere borghesiano era capeggiato da un 55enne di origine calabrese Ma residente a Roma da diversi anni Il quale coadiuvato anche da parenti Era riuscito ad assicurare una forma di controllo capillare all'interno dell'intera borgata Si tratta del nipote di un personaggio di spicco dell'Andrina Aquino di Marina di Gioiosa Ionica Grazie anche all'ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali Le indagini hanno consentito di individuare i veri pusher E di fissare le diverse compravendite di cocaina Nonché di individuare il fornitore del gruppo In un 43enne romano Cognato del promotore residente nel quartiere di Torbella Monaca Trovato ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale nel parco dell'Aspromonte Nei pressi delle sponde del torrente Listi di Reggio Calabria I carabinieri forestali hanno notato delle grufolate di cinghiale Che a loro volta congiutevano allo scoperto di quel che a prima vista Apparivano ordigno bellico in parte ancora interrato Il ritrovamento rientra nell'ambito dei controlli nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ambientale 2020 Coordinati dal reparto Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria Durante attività di perlustrazione a piedi da parte militare della stazione Carabinieri Parco di Gambari da Aspromonte Intervenuti i carabinieri del nucleo antisabotaggio e artificieri del comando provinciale di Reggio Calabria Hanno confermato che si trattava di ordigno bellico e nello specifico un proiettile di artiglieria Con diametro di 65 mm Dopo le previste operazioni di sicurezza l'ordigno è stato fatto brillare immediatamente Atti sessuali con minore nel 2009 Arrestato un 53enne di San Pietro Maida I carabinieri della compagnia di Girifalco nella giornata del 22 gennaio In un'ottemperato d'ordine di esecuzione per la carcerazione Emesso dalla procura della Repubblica verso il Tribunale di La Mezzaterme Ufficio esecuzioni penali Nei confronti di un uomo di 53 anni L'uomo è stato ritenuto responsabile di aver costretto una minore di San Pietro Maida A subire atti sessuali nel giugno del 2009 Condotto al carcere di Siano dovrà espiare 4 anni di reclusione E 5 anni di interdizione dei pubblici uffici Proseguiamo con la cronaca In trasferta con la droga nell'auto viene fermato dai carabinieri I carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato ieri notte un trentenne E hanno denunciato un minorenne per detenzione illecita di sostanza stupefacente Dopo averli trovati con quasi 300 grammi di marijuana gelati in macchina Nello specifico i militari del nucleo operativo e radiomobile di Corigliano Calabro Durante un servizio di controllo del territorio nella popolosa frazione di Cantinella Hanno notato un grande SUV con vetri tutti oscurati Fare una repentina sosta alla vista della pattuglia Il comportamento in sospettiva i militari che si accostavano al veicolo E chiedevano al guidatore, al passeggero, due ragazzi rispettivamente di 30 e di 16 anni I loro documenti di riconoscimento, subito identificati ed accertato che provenivano dalla Locri I carabinieri hanno poi chiesto il motivo del loro comportamento e della trasferta a Corigliano Ma davanti alle contraddizioni e alle indecisioni dei due hanno eseguito una perquisizione Controllando sotto la tappezzeria del portabagagli Sono stati così scoperti una grande busta di cellofan trasparente Con all'interno un ingente quantitativo di marijuana ancora da dividere La sostanza sottoposta ad accertamenti specifici risultava avere un peso superiore ai 290 grammi Tutto il materiale veniva immediatamente sottoposto al sequestro penale Mentre per il trentenne B.D. si aprivano le porte del carcere di Castrovillari Così come concordato con il sostituto procuratore Mentre per il minorenne incensurato scattava una denuncia a piede libero Per detenzione illecita di sostanza stupefacente Contrasto illeicità delle attività di polizia amministrativa nel 2019 nella provincia di Catanzaro Circa 80 gli esercizi commerciali sottoposti a controlli mirati Più di 200 i relativi addetti identificati Oltre 600 i veicoli passati in rassegna Di cui 6 sequestrati perché di provenienza illecita Ed inoltre 8 le attività commerciali risultate abusive 6 le persone deferite all'autorità giudiziaria nell'ambito di tali verifiche per reati connessi Un'officina ed una vasta area di oltre 2000 metri quadri Attigua ad una depositeria adibita a discarica abusiva Sequestrate ed infine più di 50 le violazioni amministrative accertate e contestate Rispettivamente ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza In materia di tutela ambientale Sicurezza sui luoghi di lavoro E pertinenti la legislazione disciplinante Il settore del commercio e delle attività di autoriparazione Questo è il bilancio complensivo dell'attività di polizia amministrativa Svolta in ambito provinciale nell'arco dell'anno appena conclusosi Dalla squadra di polizia giudiziaria del compartimento della polizia stradale per la Calabria Con sede in Catanzaro La quale oltre all'attività di indagine su tutte le manifestazioni delittuose Attinenti alla circolazione stradale È costantemente ed incisivamente impegnata anche in attività di polizia amministrativa Nei confronti degli esercizi commerciali Delle attività tecnico-professionali E delle agenzie di servizi afferenti alla medesima branca Viva soddisfazione per i risultati operativi conseguiti Anche in questo comparto è stata manifestata al personale operante Dalla dottoressa Caterina Naso Recentemente insiedate sia alla direzione della polizia stradale calabrese Che anche in linea con gli indirizzi del Ministero dell'Interno Ha espresso l'intenzione di proseguire, incentivare ed estendere Su tutto il territorio regionale Analoghe iniziative di contrasto alle illecità diffuse In tale remunerativo e redditizio settore economico Che spesso alimenta a livello locale anche le associazioni criminali E costituisce ambito di reimpiego di risorse di provenienza delittuosa Consentendo occasioni di infiltrazione di indrangheta Nel tessuto produttivo ed imprenditoriale Torniamo a Reggio Calabria Tentata rapina e minacce con un coltello Viene arrestato un 53enne Tentata rapina e minacce con un coltello Ad un uomo nei pressi dello stadio Costato l'arresto a un uomo di 53 anni Roberto Sementi Disoccupato e senza fissa dimora Con precedenti di polizia I carabinieri della sezione radiomobile Della compagnia di Reggio Calabria Hanno fermato l'uomo in via San Francesco da Paola Al quale ora viene contestata l'accusa di tentata rapina Lesioni personali e porto illegale di arma bianca La vittima designata era un 29enne Che stava parcheggiando la sua auto Per recarsi allo stadio Ad assistere ad un incontro calcistico Proprio durante la manovra è stato minacciato Con un coltello da cucina Dall'aggressore che gli ha intimato di consegnare denari preziosi Il 29enne ha fatto il gesto di consegnare 5 euro al 55enne Ma ha fatto anche cadere il denaro Sul sedile anteriore dell'auto E spintonato semente Poi si è dato alla fuga Chiamando i carabinieri Che sono arrivati immediatamente Dopo una breve descrizione del rapinatorio I militari dell'arma L'hanno rintracciato a pochi metri di distanza dal luogo Con ancora il coltello L'aggressore è stato portato nel carcere di Reggio Calabria Arghillà E dopo la celebrazione del rito direttissimo E' detenuto Sequestrata area isola ecologica a Cutro I carabinieri hanno sequestrato Il centro di raccolta differenziata E di rifiuti nella località Rosito Nel territorio di Cutro, nel Crotonese Nel corso di un controllo eseguito alcuni giorni fa Dai militari della stazione carabinieri forestale Crotone E' emerso subito che la gestione del centro di raccolta Nera conforme alle norme vigenti L'area della cosiddetta isola ecologica Estesa a circa 1500 metri quadrati Si presentava con i rifiuti parzialmente miscelati Privi di sistema di raccolta delle acque di ruscellamento E di altre condizioni necessarie per la corretta gestione In un'area adiacente al centro Inoltre erano stati depositati Senza alcuna precauzione Circa 70-80 metri cubi Di rifiuti urbani e non urbani L'area anch'essa di proprietà comunale Era inoltre priva di recinzione Le aree sono state sottoposte al sequestro Per evitare il proseguimento della condotta illegale Sono in corso accertamento ulteriori Per fare a piena luce sulla responsabilità E' stata già informata la Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Crotone Per le valutazioni di competenza Andiamo a Gizzeria Allaccio abusivo alla rete elettrica Coppia in arresto Gli uomini della stazione Carabinieri di Gizzeria Lido Nelle scorse ore hanno tratto in arresto Una coppia di cittadini ucraini I due infatti sono stati sorpresi In un appartamento sito in località Mortilla E qui la coppia aveva effettuato Un allaccio elettrico abusivo Collegato direttamente alla linea Enel Bypassando dunque il contatore dell'elettricità Per i due una volta tratto in arresto E' stato celebrato il rito per direttissima Con convalida dell'arresto e la successiva scarcerazione Andiamo alla Mezzia Terme Abusivismo edilizio Una denuncia e sequestro del fabbricato In via Beato Angelico E' stato sequestrato in quanto ritenuto abusivo Un manufatto in corso di costruzione Di forme rettangolari Su una superficie di circa 100 metri quadri E con una volumetria di circa 300 metri cubi In via Beato Angelico alla Mezzia A conclusione di una mirata attività in materia ambientale Infatti personale della stazione carabinieri forestale di Lamezzi E della stazione carabinieri di San Biase Hanno accertato che rincorsi costruzione Un manufatto edilizio In cemento armato In muratura ordinaria Senza alcuna autorizzazione In particolare i militari Individuati in manufatto Hanno proceduto alla verifica Delle esistenze necessari titoli abilitativi Ed eseguiti gli accertamenti Rilievi di rito Hanno deferito all'autorità giudiziaria Il proprietario committente dei lavori Per violazione delle norme urbanistico edilizio E antisismiche Una denuncia quindi È il sequestro di un fabbricato Questo è il bilancio dell'attività Violazione della sorveglianza speciale Assolto un giovane di Soriano Il Tribunale di Vivo Valenzi Preseduto al giudice Chiara Sapia Assolto Filippo Mazzotta 32 anni di Soriano Calabro Dall'accuso di violazione della sorveglianza speciale I fatti al centro delle contestazioni Risalgono al 2016 Quando il giovane in fase di esecuzione della misura speciale Con obbligo di firma Non si è presentato a firmare per diverse volte Alla competente polizia giudiziaria Senza giustificare l'assenza Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna A un anno e semestre di reclusione Il Tribunale in accoglimento della tesi difensiva Ha invece assolto l'imputato Scontro tra due auto Sulla provinciale 89 a Maida Feriti Incidente alla tarda serata del 23 gennaio Sulla strada provinciale 89 Che collega i comuni di Girifalco e Maida A causa dell'impatto Diversi passeggeri delle due auto Interessate dal sinistro Almeno sette Hanno riportato ferite Sul posto Si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza Per prestare le prime cure Per il successivo trasporto all'ospedale di La Mezia Due le auto coinvolte Una Ford Max E una Fiat Fremont Intervenuto sul posto Per ricostruire la dinamica degli incidenti Carabinieri di Maida E San Floro Per il ripristino stradale Andiamo a Falerna Il Tar Da ragione a Menniti La consigliatura va avanti E salva Dopo la decisione del Tar La legislatura del sindaco di Falerna Daniele Menniti La sentenza rigetta Il ricorso elettorale Presentato da Angelino Renne Candidato a sindaco all'amministrativo Dello scorso maggio Che contestava l'essuto dell'elezione E chiedeva l'annullamento Della proclamazione degli eletti A partire da quella di Menniti A sindaco Renne e gli altri ricorrenti Giovanni Costanzo Nicola Flora E Valentino Macchione Avevano chiesto ai giudici amministrativi L'annullamento Del verbale di proclamazione degli eletti Del 28 maggio scorso Alla carica di sindaco E di consigliere comunale Dei verbali delle operazioni Degli uffici elettorali Delle sezioni numero 4 e 5 Afferenti alle operazioni effettuate Dai rispettivi uffici Il 25 maggio Il 26 maggio 2019 Dei fogli numero 1 e 2 Contenenti i prospetti Dei voti di preferenza Ottenuti da ciascun candidato Alla carica di consigliere comunale In tutte le elezioni elettorali Del comune Rispettivamente per la lista 1 Patto per Falerne Numero 2 Fermare il declino E per l'annullamento E l'operazione di voto E conseguente rinnovazione Delle stesse La spuntata La difesa di Menniti Che potrà proseguire Nella sua esperienza Alla guida del comune Torniamo alla mezia terme Giunta Mascaro Si costituisce in giudizio Davanti al TAR Contro il ricorso di Cristiano Per l'annullamento del voto Così come avvenuto Con il ricorso elettorale Presentato dal Movimento 5 Stelle Anche rispetto all'iniziativa Davanti al TAR Del candidato a sindaco Massimo Cristiano La giunta comunale Di Paolo Mascaro Decide di costituirsi in giudizio E resistere Così alla richiesta E annullamento Delle elezioni E ripetizione del voto E lo fa con le stesse Identiche motivazioni Adottate per il precedente ricorso Ovvero E' interesse fondamentale Dell'ENT Sostendono Una delibera di giunta Approvata Sotto la guida del sindaco Ravvisabile Nelle esigenze di intervenire A tutela Della correttezza E regolarità Dell'attività Svolta dalle sezioni elettorali Resistere nei giudizi presentati L'amministrazione Ha un interesse mediato Che la pone in imposizione Di interesse contrario Al ricorrente Al mantenimento E la proclamazione degli eletti Quale presupposto Il funzionamento dell'organo In altri termini L'amministrazione Portatrice Di un interesse Alla funzione All'espletamento Dei compiti pubblici Andiamo a Stale T Nessuna pietà Per gli incivili Nessuna pietà Per gli incivili Questa la volontà Dell'amministrazione comunale Guidata dal sindaco Alfonso Mercurio Che ha già individuato Un cittadino Residente a Caminia Che aveva abbandonato Sacchetti di rifiuti Indifferenziali E materiale elettrico In una curva Lungo la strada Denominata Paradise Che porta dal centro Alla frazione di Pietra Grande Ma non ha fatti i conti Con la polizia locale Che l'ha rintracciato E denunciato Si tratta di una persona Che grazie alle immagini Scattate da una fototrappola È stata identificata Gli incaricati del servizio E hanno quindi convocato Il responsabile Del gesto incivile Che è stato riconosciuto Quale autore materiale Dell'abbandono Come documentato Dagli scatti Della fototrappola Gli è stata combinata Una multa di 600 euro Il comune di Staletti Sta infatti installando Diversi dispositivi Di rilevamento Nei presi di alcune zone Del territorio Dove avvengono Ricorrenti fenomeni Di abbandono di rifiuti Si tratta di fototrappole Con caratteristiche Di occultamento E collocazione rapida E non continua Che andranno a monitorare Aree sensibili e agricole Nelle quali Il fenomeno di abbandono Di rifiuti Si è più spesso verificato Le telecamere immobili Sono caratterizzate Da un'ottima risoluzione E visione Sia di giorno Che di notte Facilmente occultabili E sono in grado Di rilevare Anche le targhe Dei veicoli in movimento Tali strumenti tecnologici Consentiranno dunque Al comune di Staletti Un maggiore monitoraggio E una maggiore prevenzione Di illeciti Con la possibilità Di identificare I trasgressori E contestare loro Il mancato rispetto Delle norme In materia ambientale Nonché agevolare Lo sviluppo di indagini In caso di discarica abusive Noi abbiamo Un alto senso Del rispetto dell'ambiente Nel segno Di un territorio pulito Ha sottolineato Il sindaco Alfonso Mercurio Non consentiremo A nessuno Di inquinare Le nostre strade Per cui invitiamo I cittadini Ad essere rispettosi Della legge In materia Sciame sismico Nella Presila La preoccupazione Del sindaco Di Sellia Davide Zicchinella Che scrive All'Istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia Si dice molto preoccupato Il sindaco di Sellia E consigliere provinciale Davide Zicchinella In merito Allo sciame sismico Che dal 17 gennaio scorso Sta interessando L'area della Presila Allarmando i cittadini Di un territorio Molto vasto Il sindaco Zicchinella Ha scritto E responsabile All'Istituto Di Geofisica E Vulcanologia Per chiedere Approfondimenti In merito Al fenomeno Che si sta sviluppando Nella Presila Nel discorso Si è manifestata Questa scossa Di 4 gradi Della scala Richter Spiega Zicchinella Ma da allora Continuano a ripetersi Scosse in superficie Creando un fenomeno Che naturalmente Preoccupa Le popolazioni Di un territorio A ridosso Della stessa città Di Catanzaro Dove le scosse Si sono sentite Non esprimo Le preoccupazioni Solo del mio comune Ma anche quelle Del comprensorio Per questo Ne ho tratto Una nota ufficiale Al direttore generale Dell'Istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia Stramondo Nella quale ho chiesto Non solo di attenzionare Questi eventi sismici Che si stanno realizzando In Presila Ma anche un supporto Tecnico Sul posto Affinché si possono Verificare Questi fenomeni Una promessa Mantenuta Quella di realizzare Un campo Polifunzionale A Montepaone Lido Questa La dichiarazione Dell'assessore allo sport Tiziana Tuccio E dell'assessore Lavori pubblici Francesco Lucia Tiziana Tuccio Assessore allo sport Oggi si allarga L'offerta per i bambini Della scuola primaria Sì Oggi Con grande emozione Inauguriamo questo campetto Tanto atteso Dai bambini E anche richiesto Speriamo che lo sfrutteranno Nei migliori modi possibili Perché lo sport È molto fondamentale Soprattutto per i bambini Di questa età Non solo le strutture Ma anche tanti progetti Nella scuola primaria Lo sport come mezzo Per avvicinare i bambini Alla legalità E al rispetto delle regole Sì Perché grazie allo sport I bambini Diciamo che imparano A interagire tra di loro E oggi Nella società che siamo È molto importante Perché i bambini Tendono maggiormente A stare sempre attaccati Ai cellulari Ai tablet E non va bene Perché tendono a isolarsi Dirigente scolastico Renato Daniele Un altro traguardo I bambini da oggi Avranno uno spazio in più Per praticare sport Allora Buongiorno a tutti Innanzitutto Sì Questa è un'opera importante Per l'istituzione scolastica Di Montepaone Perché Oggi più che mai I bambini Oltre all'attività Didattica Classica Hanno bisogno Di spazi Per svolgere L'attività sportiva E questo È un esempio Grazie Anche Alla collaborazione Alla rapporto Sinergico Che abbiamo Con l'amministrazione Comunale Che si è dimostrata Sempre sensibile Alle richieste Che la scuola Fa sempre Nei confronti Del benessere Dei ragazzi Eccetera Quindi noi siamo Convinti Che Ovviamente Anche la pedagogia Sportiva Lo è Che Le strutture Sportive Servono Anche per i processi Per agevolare Il processo di apprendimento È una scuola Che punta molto Sullo sport Non solo le strutture Ma anche sport di classe E altri progetti Finanziati a livello nazionale Che coinvolgono i bambini Di Montepaone Nella pratica Delle varie discipline sportive Quanto è importante? È importante Oggi più che mai Perché Lo stile di vita Dell'uomo Del terzo millennio È cambiato moltissimo Una volta Una volta l'uomo Di natura Normalmente Svolgeva Un'attività fisica Perché prevalentemente Il lavoro Era fisico Oggi Siamo condannati A stare dietro Una scrivania Dietro un computer E quindi Sempre meno L'uomo Svolge L'attività sportiva Che è fondamentale Non solo Per l'apprendimento Dei ragazzi Ma per la qualità Della vita stessa Quindi Svolgere L'attività sportiva È associata Anche A un'alimentazione sana Sono fattori Trasversali All'apprendimento Degli alunni Ma fondamentali Per una qualità Di vita È buona Diciamo Vi ricordiamo Subito Dopo il Tg Andrà in onda Uno speciale Sull'evento Ci fremmiamo Per una breve pausa Andiamo a Chiaravalle Centrale Il 26 gennaio In scena Chi è senza peccato Dell'associazione Stuazzi E Pitazzi I concorsori Unione Italiana Libero Teatro Dà appuntamento A domenica 26 gennaio In scena L'associazione teatrale Stuazzi E Pitazzi Di Carolei Con lo spettacolo Chi è senza peccato Di Marco Lombardi Opera che sostituisce La rappresentazione Precedentemente In programma Cornuto e contento Sul pasciol Croscenico Del teatro Impero Le vicende Di una famiglia E di un marito Che si scopre Innamorato di una persona Con la quale Ha avuto una scappatella Cerca di nasconderla In tutti i modi Alla moglie Alla figlia Ma non riesce A fare lo stesso Con il suo miglior amico Marco Che così diventa Suo malgrado Complice Della fresca Bene Anche per questa serie È tutto Ma non resta che Salutarvi E rinnovarvi L'appuntamento Alle prossime edizioni Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti